È stata avviata la formazione per una novantina di insegnanti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado degli istituti di Pordenone, in merito alle problematiche legate ai disturbi specifici dell'apprendimento. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l'assessorato all'istruzione del comune di Pordenone e la sezione locale dell'Associazione Italiana Dislessia. L'intento è quello di fornire ai docenti gli strumenti e le strategie più efficaci per aiutare quegli studenti che presentano alcune difficoltà come la dislessia, la disgrafia e la discalculia, che colpiscono mediamente il 5% della popolazione scolastica e che possono compromettere anche sensibilmente la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente. Questo primo incontro è stato condotto dalla dottoressa Monica Bertelli, formatrice dell'Associazione Italiana Dislessia, che ha portato tra i docenti la sua esperienza con i bambini, offrendo agli insegnanti la possibilità di raccontare le proprie esperienze, aprendo un confronto costruttivo e illuminante. I nostri bimbi e ragazzi hanno bisogno di adulti che facciano rete, che creino un linguaggio comune, che possano sostenerli soprattutto dopo anni di Covid che hanno provato tutti noi esseri umani. Siamo qui in presenza, uniti per ragionare su aspetti emotivi, su motivazione, su strumenti e strategie per accompagnare i bimbi e i ragazzi verso il successo scolastico, perché devono permettersi di essere liberi di apprendere, di essere se stessi con le loro differenti caratteristiche ed essere dei buoni cittadini in questo mondo che ha bisogno di persone serene, felici e di adulti che possano unirsi per il bene della cittadinanza e dei nostri figli. L'AID è l'associazione di dislessia italiana, rappresenta il DSA, quindi il disturbo specifico dell'apprendimento. Nelle sue missione è quella appunto di approfondire il disturbo specifico dell'apprendimento, di promuovere la ricerca e di innovare la didattica. dal 1994 è anche ente di formazione per il MIUR e questo progetto noi anche parleremo di BES, bisogni educativi speciali. I problemi legati alla dislessia e più in generale ai disturbi dell'apprendimento sono questioni in aumento e che interessano tanti studenti e tante famiglie. Per questo abbiamo sostenuto come comune e come assessorato all'istruzione e l'iniziativa dell'associazione italiana dislessia che interviene con questi incontri, questi interventi di formazione sia per gli insegnanti per cercare di affrontare meglio queste questioni sia per gli studenti stessi. Riteniamo che siano questi i veri problemi della scuola e delle famiglie per cui li sosteniamo convintamente.